La strada statale 658 Potenza Melfi costituisce uno dei corridoi di collegamento di maggiore rilevanza strategica per lo sviluppo dell'intera regione ed in particolare per lo sviluppo delle aree del Potentino e del Vulture Melfese. E' quanto sostiene Vito Santarsiero che chiede con una mozione di riconoscere quale elemento strategico della pianificazione infrastrutturale regionale la realizzazione di una strada a due corsie per ogni senso di marcia lungo l'asse Potenza Melfi-Candela. Per la realizzazione di questo obiettivo Santarsiero sollecita inoltre l'istituzione di un tavolo di lavoro al Ministero dei Trasporti e chiede contestualmente di sospendere ogni ulteriore impegno di risorse lungo tale asse stradale e di rivedere il sistema nazionale infrastrutture e trasporti in funzione delle più ampie esigenze della regione e dell'obiettivo nazionale di riequilibrare nel Paese la dotazione di autostrade e strade extraurbane principali con due corsie per ogni senso di marcia.